Allora ragazzi, faccio questo video intanto per sfogo e poi perché voglio trattare questa tematica che io la ritengo fondamentale e importante tutto è iniziato da questo, io ho misi un post qualche giorno fa su Instagram, ve lo leggo ragazzi voglio capire una cosa, quando commentate sotto i miei post stavi meglio prima oppure fai schifo con quei muscoli chi ve lo dà il diritto di esprimere la vostra opinione con tutta questa arroganza e superficialità? dire ad un palestrato che fa schifo è ok, dire ad una persona oggettivamente obesa che dovrebbe dimagrire è un delitto il political correct viene fuori solo quando vi fa comodo comunque non me ne frega assolutamente niente di questa offesa, sono un chiaro segno di invidia e frustrazione avete bisogno di uno psicologo, non di Instagram e poi ho aggiunto che io blocco tutti quelli che insultano senza motivo allora, io voglio fare questo video perché penso che insultare una persona che fa palestra, che ha i muscoli sia la stessa medesima cosa di insultare un uomo sessuale, una persona obesa o addirittura una persona di colore dire a qualcuno che schifo fai con quei muscoli è la medesima cosa di dire ad una persona obesa che fa schifo con quel grasso però la società protegge la persona obesa anzi, adesso addirittura sta cercando di renderla una cosa fra virgolette normale l'obesità cosa che io ritengo sbagliata, ma questo è un altro discorso la società e le persone proteggono le persone con problemi di sovrappeso ma denigrano chi fa sport e soprattutto chi ha un fisico magari molto muscoloso ragazzi, ricordate che magari per me, ok, può essere un complimento dirmi che schifo sei troppo grosso però comunque è sempre un'offesa e non mi venite a dire che, ok, te sei un palestrato perché lo vuoi, fai pesi, cresci con i muscoli e quindi se ti offendono ti devi offendere beh ragazzi, una persona obesa nel 99% dei casi è così perché mangia, è una sua scelta però quest'ultima ha il diritto di lamentarsi e magari di creare scalpore dopo un'offesa del genere un culturista non viene assolutamente considerato se viene deriso o viene offeso dicendogli che fa schifo poi un'altra cosa che secondo me è davvero grave, ma grave 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 è sotto le foto delle ragazze che fanno palestra, che hanno un fisico tonico tipo la Sagra o la Lewin, che secondo me hanno un fisico perfetto cioè secondo me è la perfezione per dar il punto di vista femminile quel fisico però sono sempre gusti scrivere ad una ragazza oggettivamente un pochino muscolosa o comunque con un buon fisico che sembra un uomo, perché magari ha degli addominali un po' in vista o comunque una spalla più tonda ragazzi, è gravissima come cosa perché questa persona che è femminile, che appunto vuole essere femminile fa di tutto per esserlo di più ed essere più bella vai te e gli commenti sotto dicendogli che sembra un uomo cioè è un'offesa bruttissima e è la stessa cosa di dire ad un gay che magari ha degli atteggiamenti un pochino più femminili che sembra una checca, che è femminato eccetera 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 quest'ultima giustamente si offende e può denunciarti alla società una ragazza che viene offesa invece sotto un commento o anche dal vivo dicendogli che sembra un maschio solo perché ha qualche muscolo in più non può far niente perché appunto la società ritiene che è giusto dire una cosa del genere e non venite a dire no non è giusto, è vero la società non è questa la società è questa ragazzi perché io ultimamente sto postando tante cose su Instagram e fortunatamente sta avendo anche un buon successo tutti i release che sto mettendo eccetera quindi nuovi follower, nuove persone ragazzi io cancello tantissimi insulti tutti i giorni con scritto fai schifo, troppi muscoli, stavi meglio prima non ti vergogni ad andare a giro così dopato di merda di tutto e di tutto e di più io prendo, li cancello e li blocco e non ci penso più però ragazzi se fossi più sensibile ma voi non avete idea di come ci potrei star male fortunatamente non me ne frega assolutamente niente perché io mi sono messo in testa che le persone che purtroppo non sono intelligenti anzi sono stupide e ignoranti io non le considero proprio come persone da ascoltare ma persone da evitare in tutti i modi ok? quindi a me non mi toccano assolutamente questi insulti però ad una ragazza sì magari ad una ragazza che mette solo due foto ogni tanto su instagram tanto per perché cavolo ha raggiunto un buon fisico cavolo mette una foto arriva lo stupido di turno fai schifo perché? perché? se non vi piace non dite niente pensatelo e basta o magari fai un commento costruttivo ma no fai schifo sembra un uomo nasconditi eccetera 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 ma ragazzi ma dove siamo finiti? ma poi un'altra cosa voglio dire l'altro giorno capitò sotto il mio reels che uno mi scrisse nulla facente non fai nulla tutto il giorno mantenuto offese di questo tipo ma ragazzi ma se non sapete neanche cosa faccio tra la mattina e la sera come vi permettete di giudicare? ma perché? perché vi fa sentir meglio a voi? vi da tanta noia il fatto che io lavoro in palestra e lavoro da casa online eccetera vi da noia questa cosa? se vi da noia ragazzi fate qualcosa per migliorare voi stessi non venite da me a insultarmi perché voi se no non migliorerete rimarrete dove siete allora l'altro giorno una ragazza mi ha mandato un messaggio su instagram ve lo leggo all'inizio mi dice se accorsate parole che faccio bene a bloccare tutti e poi mi scrive seconda cosa che è bello quando qualcuno dice la verità da medico mi capita di dover quasi aver paura di dire a un paziente che deve dimagrire perché obesità e sovrappeso cosa sbagliata perché adesso questo concetto di obesità e sovrappeso viene considerato quasi normale ma invece ragazzi non è normale ok per la vostra salute è meglio se non avete una percentuale troppo eccessiva di massa grassa quindi se ve lo dice un medico ragazzi io lo ascolterei però questo è un altro discorso però quando da ragazza vengo poi bullizzata sui social perché sembri un maschio che schifo i muscoli basta allenarti lì non posso dire nulla cioè lo vedete ragazzi e non è l'unico messaggio che mi è arrivato tanti ragazzi mi scrivono dicendo che vengono presi in giro perché fanno la dieta perché hanno magari un fisico muscoloso e gli danno del fissato gli danno del pompato senza cervello eccetera eccetera io non riesco a capire dal punto di vista psicologico che cosa perché una persona insulta in questo modo io penso sempre che il mondo e la negatività giri sempre intorno all'invidia una ragazza con un buon fisico viene criticata se vedete da molte donne proprio perché quest'ultime sono invidiosi e gli uomini i maschi con un buon fisico vengono criticati anche loro da uomini dicendogli che appunto sono dei pompati senza cervello eccetera la persona essendo invidiosa cerca cerca comunque di denigrare quello che ha davanti per far sì che sia al suo stesso livello quando sa che oggettivamente è un livello superiore quindi cerca di insultarlo sperando che quest'ultima persona peggiori e stiano allo stesso livello secondo me è proprio un discorso interno delle persone invidiose che odiano che qualcuno sia meglio di loro come quando una persona ha più soldi di voi e gli dite sì vabbè ma che te ne fai di tutti questi soldi sicuramente avrai una vita triste infelice chissà che cosa farai mai per essere ricco la mafia eccetera magari è solo un imprenditore che si fa un mazzo così secondo me è questo il discorso l'invidia è la base della cattiveria umana un'ultima cosa volevo dirvi io capisco che siete frustrati dentro e che avete magari delle cose da esprimere negative e ve le rifate sugli altri sui social perché è la maniera più semplice nessuno vi può dire niente nessuno vi può far niente perché appunto voi scrivete un messaggio e poi chiudete il telefono bloccate o spingete il computer e quindi vi siete sfogati e poi finisce lì la cosa però ragazzi invece di scaricare la vostra rabbia lì pensate a qual è il problema principale lavorate su voi stessi e cercate di migliorare e non parlo di estetica ma parlo nella vita ragazzi insultare qualcuno non vi farà essere persone migliori non vi cambierà assolutamente nulla anzi più negatività infondete nel mondo e più negatività attraete ragazzi dovete essere positivi sostenere le persone cercare consigli non solo dare dello schifoso dopato senza cervello eccetera ad una persona che oggettivamente è meglio di voi ma anzi vedete una persona che è meglio di voi andate lì cercate consigli attraete la sua positività la sua conoscenza fate vostro la conoscenza e ampliate la mente ok ragazzi l'unico modo per crescere è essere più intelligenti e soprattutto parlare con persone meglio di voi ok ragazzi non denigrate gli altri ma cercate soprattutto di evolvervi perché se no di qui non ci smuoviamo ragazzi noi ci vediamo al prossimo video e fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti alla prossima grazie a tutti